e come voleva si dimostrare Deci Kamada saluterà la Lazio nell'ultimo video vi ho fatto un pochino riassunto riguardo i rapporti comunque tra Tudor e Lotito e vi ho fatto riferimento appunto alla situazione di Kamada giocatore che aveva contatto in scadenza il 30 giugno 2024 ma che entro oggi appunto il club poteva fare rivalere un rinnovo tacito di contratto pagando una cifra simbolica di 100 euro fatto sta che poi comunque la Lazio e il giocatore sono andati a rinegoziare un rinnovo di contratto a prescindere da questa opzione di rinnovo unilaterale da parte appunto del club il problema è che il contratto tecnicamente era fino al 2027 però strutturato in questo modo un anno di contratto più un'altra opzione per altri due anni di contratto fondamentalmente è stato il problema è nato nella soglia tra il primo anno di contratto e gli altri due di opzione perché fondamentalmente l'entourage del giocatore voleva mettere una clausola di recessione quindi ammesso che il club voleva rinnovare il contratto voleva far rivalere la clausola scusate l'opzione quindi un'estensione di altri due anni di contratto l'entourage voleva mettere appunto in questo contratto una clausola di recessione per il calciatore però sembra che questa clausola fosse veramente veramente bassa inoltre il giocatore chiedeva un ingaggio più alto di 2 milioni di euro quindi dai 3 milioni di euro netti ai 5 milioni di euro netti inoltre sembra che adesso il giocatore il futuro del giocatore sarà in premier perché come riporta Fabrizio Romano sembra che Dejicamada sia lì lì a firmare per il Crystal Palace magari quando vedete questo video avrà già firmato per il Crystal Palace e c'è da interrogarsi su un po' di questioni riguardo questo iter in primis secondo me la follia tra virgolette di Tudor a puntare su un giocatore che fondamentalmente da lì a poco non sapeva neanche se ti rinnovava infatti questa è una cosa che la società ha rimproverato a Tudor ha detto tu mi stai valorizzando dei giocatori che non si sa neanche se rimarranno ma mi stai depauperando un valore tecnico escludendomi i vari Isaacsen i vari Gendusi i vari Rovella e per i tre giocatori più o meno la Lazio ha speso i 50 milioni di euro quindi sta Tudor con il suo fare stava depauperando appunto stava facendo scendere un volo di mercato di investimenti puntando magari per il fine di stagione in modo anche giusto su un giocatore che comunque non non sapeva neanche se ti rimaneva comunque Kamada ad ora sarebbe stato un punto fondamentale per la Lazio 24-25 ma adesso adios Kamada quindi adicatò cosa amass e ciao ci invitiamo ma fondamentalmente l'errore base secondo me è il saluto della Lazio perché ho capito che tu vuoi un giocatore ma non ti puoi permettere di accettare queste condizioni già il fatto che Kamada avesse o meglio che l'entuaggio di Kamada avesse proposto il contratto di un anno più un'opzione di rinnovo per me era già una follia perché è un po' come il discorso dell'allenatore che ti inizia la stagione col contratto in scadenza che sicurezza dai ai giocatori e stessa cosa dai un allenatore fornendogli un giocatore come Kamada ok che tu avevi l'opzione di rinnovo ma se il giocatore si mette contro ha voglia l'opzione ciao ci vediamo il giocatore si libera quindi già secondo me il quindi vi posso dire questo fatto che la Lazio abbia accettato e sembrava propensa anche ad accettare queste condizioni Kamada secondo me è follia perché in questo caso diciamo che gli agenti tenevano per gli attributi il club e sarebbe stata una cosa secondo me totalmente folle secondo me Tudor avrebbe dovuto in parte anche tutelare un po' gli investimenti del club e adesso nonostante proprio di Lotito che ha detto non è vero tutta sta cosa di un ipotetico sono di Tudor sono tutte fandonie e io adesso ci ripensare un attimino perché comunque non mi viene difficile pensare a un Tudor che ti sbrocca e dice perché non avete ratenuto Kamada e vaglielo a spiegare poi appunto vaglielo a spiegare Tudor Tito a Tudor che non ti ha voluto rinnovare il giocatore e questo come ho detto è fondamentalmente un difetto degli ultimi tecnici croati come Juric come Tudor hanno quella mentalità e da lì non si tolgono da lì non si schiodano è un grande limite di Tudor devo dire però adesso staremo a vedere perché non se non dovessero fare un mercato manipolato o meglio adattato a Tudor io non non fatico a credere che c'è l'appunto il croato sbrocchi e dica lo Tito sai che ci vediamo io come ne vado perché non ho garanzie tecniche perché non prendo i giocatori che voglio io il solito discorso che avevo già fatto quindi il bilanciamento degli interessi quindi l'allenatore che deve guidare una squadra messa al servizio della dirigenza oppure è vero che la dirigenza deve lavorare in base a quello che dice l'allenatore ripeto come dire se è andato lo primo luogo o la gallina è difficile dire ognuno ha la sua ha la sua visione per me è un bilanciamento di cose nel senso che è vero che il tecnico deve avere incidenze sul mercato ma è anche vero che comunque la dirigenza deve avere una sua autonomia cioè deve dire questa è un'occasione di mercato io te la prendo state tecnico farti andare bene perché secondo me può andare bene perché si parla sempre di professionisti e sulla carta un direttore sportivo debba avere le competenze per fare dei giudizi anche tecnici poi sono direttori sportivi che non ci capiscono un cacchio di calcio ma questa è un'altra cosa quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate la situazione è questa quindi la Lazio ad ora ha visto un percorso tudoriano fondato su un giocatore che firmerà a breve per il Crystal Palace quindi ripeto arigato cos'è mas a Reci Gamada e ci vediamo matanè fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate vi mando al bacione e ciao al prossimo video ciao ragazzi